Ho provato ad ascoltare la voce nel silenzio. La mente vaga con mille pensieri inconsulti. Spazi da un evento all'altro. Senti le pene, le gioie che si susseguono. Caldo, freddo, passione, indifferenza. Sempre uno il contrario dell'altro. Parole ti vengono dette. Consigli gratuiti. Vogliono capirti, consolarti, distrarti. Ma se non vuoi sentire, se vuoi piangere, urlare, disperarti, o semplicemente gioire, non mi chiedere come sto. Lo sapete, sto sempre bene. Vuoi la verità? Guardami negli occhi. Cerca la mia anima. La risposta è lì.